Martedì 9 giugno, buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento con la nostra Rassegna Sapa. Prima di leggere i giornali vediamo il bollettino, l'ultimo di queste ore, diramato dall'ASREM, sono due i nuovi casi positivi dopo una lunga striscia senza contagi. Una notizia che scuote la calma durata 10 giorni. In Molise ci sono due nuovi casi di coronavirus. Si tratta di una persona di Campobasso, contatto di un cluster noto e di una di Oratino, rientrata da fuori regione. Per entrambe nessun sintomo e tampone positivo. Nelle ultime ore ne sono stati processati 226, ma si prosegue ancora con i test. Le autorità ribadiscono che non bisogna allarmarsi, anche perché la situazione dei positivi attuali parla di 120 casi. Tra le buone notizie c'è quella di un nuovo guarito residente a Belmonte del Sannio. La cifra complessiva delle persone che si sono negativizzate adesso è di 276. La situazione dei pazienti Covid al Cardarelli è immutata. Ci sono due persone in terapia intensiva entrambe della provincia di Campobasso. E sono 137 i positivi isolati, 156 i soggetti in quarantena. E allora, vediamo adesso la prima pagina di Primo Piano Molise in apertura. Covid Hospital a Larino Toma dice nulla in contrario, ma decide il commissario. Il governatore dopo la manifestazione provietri, giustini ai poteri necessari e io non mi opporrò al progetto, purché non sottragga risorse agli altri ospedali. Termoli, revocato il divieto ambulanti residenti fuori regione, ammessi ai mercati. Scuola in piazza, senza interventi straordinari, impossibile ripartire. Le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali, spazi adeguati e più personale. E a proposito di scuola a Montaquila, le aule non bastano. Il sindaco Ricci scrive a regione e ministero. L'istruzione domiciliare è invece il punto, affirma, di Umberto Berardo. La giunta, le due espulse dalla Lega e quattro consiglieri dicono no all'assessore esterno. Toma risponde, attendo indicazioni da Salvini, i patti si rispettano. Il bollettino, l'abbiamo visto anche nel servizio, dopo 11 giorni si arresta la scia positiva. Due nuovi casi, entrambi asintomatici, aumenta pure il numero dei guariti, sono 276. A Isernia, il bimbo vissuto 600 mila anni fa a un volto, arriva in città la paleoscultura. Eccola qua, arriva dalla Francia con destinazione, il museo del paleolitico, la raffigurazione del bambino che sarebbe vissuto nel territorio Pentro circa 600 mila anni fa. Dentro la notizia San Martino, il riesame smonta l'impianto accusatorio. Nessun legame mafioso, Santo Ianni, Libero, Agnone, Diagnosi false, liste d'attesa manipolate, chirurgo indagato dalla Procura di Roma. Poi c'è lo sport, ieri a mezzogiorno si è riunito il Consiglio federale, promosse soltanto le prime, però c'è un'apertura ai ripescaggi in Lega Pro. Dunque il Campobasso spera nella riammissione. Fusione di Rienzo verso la panchina del club che unisce Isernia e Rocca Sicura. Calcio a 5, Pietrunti, nuovo allenatore dello Sporting Club. Allora, andiamo adesso invece sul messaggero. Imprese e famiglie, il piano Colao, la relazione al Premier, scudo penale per datori di lavoro, rinvio della tassazione, proroga dei contratti a termine, stati generali, conte cede al PD, gestione collegiale saranno a tappe. L'ultimo giorno di scuola, addio all'anno del Covid, azzolina, niente, gabbie in plexiglass. Un ultimo giorno trascorso, fra l'altro, tra scioperi, flash mob e difficoltà per gli scrutini. Immuni, partenza a marcia ridotta, Pisano, i governatori collaborino. L'intervista alla Ministra a proposito della nuova applicazione per il tracciamento che è stata avviata in via sperimentale in quattro regioni. Statali, uno su tre, resterà a lavorare in smart working. Il 30% dei dipendenti pubblici verrà impiegato da remoto, sono pronti gli emendamenti al DL rilancio. Stretta della polizia, ci spostiamo in America, sondaggi, Trump giù, balzo di Biden a più 14%. Ed ora invece è il momento del Corriere della Sera, il PD a Conte, ora una svolta. Colau presenta il piano, rinvio delle tasse, rinnovo dei contratti a termine e più 5G. I timori di Zingaretti, vertice con i partiti, il Premier, ai suoi ci sono pezzi di Stato che remano contro il governo e le riforme. Tanti nodi, un traguardo, gli studenti in classe e il commento su come ripartire, che oggi propone il Corriere della Sera. I trucchi dei regimi che nascondono i veri dati sul Covid e invece il pezzo di Fubini a proposito delle differenze con le democrazie nel caso di questa pandemia. Andiamo ora invece su Repubblica, la rabbia dei reggeni. Il governo ci ha tradito dopo la vendita delle navi militari all'Egitto. sono state importate queste navi costruite in Italia da Fincantieri. Piano Colau, Gelo di Conte, il dossier consegnato al Premier, infrastrutture e ambiente volano della ripresa, critica agli aiuti in ritardo, Palazzo Chigi è solo uno dei documenti, il PD lo incalza, serve un salto di qualità, attenzione sugli stati generali. Scuola, la viceministra Ascani, Gualtieri troverà i fondi extra. Troppi razzisti, l'America vuole rifare la polizia, playoff e retrocessioni, sconfitto il partito della Serie A intoccabile, guerra del calcio, ci sono le linee di gravina che battono Cairo. Andiamo sul sole 24 ore, il BTP legato al PIL punta sulla ripresa. Titolo a 8-10 anni, cedole crescenti e premio finale collegato alla ripresa. Il buono futuro è riservato ai piccoli risparmiatori, emissione al via a luglio. Imprese in rivolta da tridico parole offensive sulla cassa integrazione. Bonomi, dichiarazioni scioccanti per il mondo produttivo, ha detto. In un'intervista il presidente dell'Inps aveva parlato di opportunismo. Ghiaccio più fragile, ombre sulla nuova frontiera di Putin. I record negativi del DL rilancio è un altro punto di vista del sole 24 ore. Le rinnovabili che investono, burocrazia il vero nemico. E per gli affitti, recupero del bonus di marzo, chi ha i requisiti previsti dal nuovo DL rilancio, può ottenere il credito. E andiamo in chiusura con la gazzetta dello sport. Ciclone Marotta è il titolo d'apertura. Voglio tutto. La Coppa Italia è un po' lontana, ma possiamo averla in mano. Campionato anomalo. Chissà come finirà. Lautaro, se va via, arriverà un top player. Ma adesso il Toro pensi a vincere con noi. Calcio spaccato. Il futuro è seguire il modello inglese. Le società devono poter decidere in autonomia. Play-off sì. La Lega se ne va? Sfida di gravina. Anche l'algoritmo tra i club di A tira aria di scissione. Nel piano B restano pure i play-out. Nel C la media ponderata. Le decisioni della FIGC. Tacere una positività è come truccare una gara. Mercato dal 1 settembre al 5 ottobre. Annullato il torneo femminile. Prima di salutarci vediamo quali sono i programmi che andranno in onda oggi sulla nostra rete. A partire dalle 11 fuoco incrociato. Alle 14 saremo in diretta con il telegiornale. Alle 14.30 salute 4.0. Alle 16 fuoco incrociato. Alle 18.30 Musa TV. Alle 19.30 torna in diretta l'informazione. Alle 20 salute 4.0. Alle 21 Paese mio. Alle 23 l'ultimo appuntamento con il telegiornale. È tutto anche per questa mattina. Grazie come sempre per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti